Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Ragazzi, ho ottenuto quello che volevo Ho ottenuto quello che volevo Che cosa volevo? Volevo un gatto nero No scherzo E volevo un piccone col sail touch E ce l'ho Sì E vai Allora Buongiorno Qua ho farmato veramente tanto Infatti ho deciso di aggiustare le librerie come avete detto Infatti le ho messe così Vedete, ho aggiustato tutto quanto Vedete come sono bravo Vedete, vedete, vedete E le ho aggiustate perché mi avete detto in tantissimi che ero un mongoloide Perché avevo messo la torcia qua Però togliendola non capivo dove potevo metterla Poi ho calcolato che se io salgo sulla crafting table Vi faccio un esempio più pratico Vado qua fuori Ok Uh c'è un nuovo Vediamo un po' Pam No Allora vado qua Premo shift vado avanti e non riesco a cadere Perché questo qua è un blocco di terra ed è un blocco intero Invece se vado qua dalla carissima Dal carissimo tavolo degli incantissimi primo shift Vado avanti Riesco lo stesso a scendere Perché? Anche dalle casti succede questo Perché vengono visualizzate come slab Quindi appunto qua sotto Ho inserito Il La torcia E riesce lo stesso a illuminare Infatti se io adesso faccio così vedete che non c'è nessun calo di illuminazione Mentre adesso non sto a romperla Però se io rompo questo Questa libreria ci metto un blocco Vedete che si bloccava tutto e ci sarà meno luce Comunque Muori Ok Buttiamoci dentro altra roba Ok no Un po' di frecce me la tengo Oh non resisto a farmare quei cosi E comunque adesso che ho il mio bellissimo arco Il mio bellissimo arco Oddio non riesco a parlare Il mio bellissimo piccone con seal touch Vuole fare una cosa Allora andiamo in creativa Allora Questa qua ragazzi E la casa No E già se riusciamo a finire di costruire questa È Già buono Direi che è già buono Ho portato le piccole modifiche Allora ho rotto queste colonne Tra virgolette Di Queste colonne di Non lo so Però tipo potrei fare Una cosa tipo dei pistoni O poi vedrò Comunque Comincerò a farlo così E penso che Sono abbastanza convinto di quello che dico Ok provo a uscire Il golem di qua non esce Non c'è verso Non può uscire Perché c'è un blocco Un blocco di qua E lui ha bisogno di almeno due blocchi E Niente ragazzi appunto Io di qua però posso passare E l'acqua no Quindi passo solo io di qui Forse neanche i mob possono passare Comunque non lo so E dico Posso scendere Accedere alla zona dei portali Ok Ed è Diciamo la zona che voglio costruire In questo episodio Infatti non costruirò tutta questa home In questo episodio Ma principalmente costruirò L'acquario Con sotto il portale E mi terrei già soddisfatto Anche senza metterci ancora i golemi dentro Perché voglio trovare un nome A questo Bellissimo golem Come vuoi chiamarti Dimmelo come ti chiami Chiami Squiddy Quello di Spongebob Ha il suo naso Ha il naso di Squiddy Adesso ti farò Un Screenshot E ti metterò a fianco La foto di Squiddy Stai Si puoi stare un po' di profilo Gra Un set fotografico per il golem Attenzione Lol ragazzi Ho bloccato la registrazione Invece che fare lo screenshot Fail Epico Però devo farti la foto Allora devo farti lo screenshot Grazie Ok Ce l'ho fatta Stavolta non ho bloccato la registrazione Con conseguenti danni Sulla Specie umana Quindi Ragazzi Direi che Devo Creare questa cosa qua Con sotto i portali E già se riesco a creare una cosa così Mi terrò soddisfatto A proposito Questo invece È il design Delle stradine Non farò più le stradine Di questo Genere Molto molto Difficile Vero Si scommetto che Anche voi le trovate Molto difficile Le stradine fatte Di questo Genere qua Vediamo un po' Fatte in questo modo qui Guardate un po' Ok Si Eh queste qua Erano veramente impossibili No io voglio queste Col tappeto bianco Rosso Mattoni O meglio scale di mattoni Perché fan più figo Di qua E i mobi non possono salirci E il vetro blu Perché il vetro blu Spacca e mi difende Da eventuali frecciate Che mi tireranno I Gli scheletri Che stanno là sotto Si questa qua Veramente è la stradina Più efficiente Che potevo fare Il top delle stradine Ok Detto questo Vi voglio far vedere Ancora un'ultima cosa Allora Premetto che La cosa Che vi sto Per far vedere L'ho vista Da Matteo Fire Quindi Non Ammazzatemi Questa È bedrock E Questo lo sapevate Si Oh ma Riesco a stare A gassi a galla Oddio Come parlo Come cavolo Sto parlando Comunque mi serve Della bedrock Bedrock Ok E devo ritappare tutto Comunque questa bedrock Non l'ho tappata Con Cioè non l'ho Oddio ma riesco a parlare Ragazzi Veramente Ho Sto di problemi Allora Questa bedrock L'ho rotta Ecco Con paravocale Ferre L'ho rotta Con Quest'albero Infatti L'albero Della Quercia oscura Guardate cosa ci permette di fare Se noi lo facciamo crescere Aspettate Ok Cresce E Diventa così Wow No Il segreto è questo Rompe i primi 4 blocchi Metterci Degli altri alberelli qua Provare a farlo crescere Non funziona sempre Ok Invece stavolta ha funzionato Il primo colpo Che cuore E vi faccio notare Con molta felicità Che Vediamo un po' se ha funzionato Ecco Tipo questo blocco E' andato Settutirsi alla bedrock Quindi noi rompendolo Perché rimane un blocco di legno Possiamo Buttarci Adesso non so Quale utilità potremmo dare A questo Comunque possiamo Rompere la bedrock E' il sogno di ogni Minatore Di minecraft Si Comunque adesso Devo provarci ancora un paio di volte Perché praticamente Io posso Ecco di nuovo Anche qua Come vedete Posso pian piano Fare dei buchi Veramente enormi E' un'idea malatissima Lo so Guardate qua Abbiamo già bucato Tutto praticamente Comunque ragazzi Con questo trucchetto Visto a Matthew 5 Vi ricordo Non è un'idea mia Anche lui l'ha copiato da un altro Poi così Non mi trucidate Aia Questa volta è cresciuto Normalmente Comunque Grazie a queste alberelli Riusciamo a bucare la bedrock Questo E' veramente Una cosa figa E E Finalmente Riusciamo a Siamo a rompere la bedrock E non so Quanti youtuber lo faranno Però Lo fanno Very good Ma sono contento ragazzi Che C'è questa possibilità Perché mi sento potente Quando Quando spacco la bedrock Mi sento veramente potente Ok Detto questo Sono un po' deciso Rompiamo la bedrock In questo episodio O Andiamo nel nether Costruiamo l'acquario E poi vediamo cosa fare Perché in ogni caso Bisogna costruirlo E Quello che sto facendo adesso E' solo una grandissima Parieta di tempo Quindi Cosa farò adesso Cerchiamo Andiamo un attimino Perché avrei fuoco Scusami Ma è l'armatura What Beh Questa poi me la spieghi Avevi l'armatura Andavi a fuoco Lo stesso E' una finta armatura Era made in Cina Comunque Andiamo Andiamo alla zona Che Dove appunto Costruiremo la casa E dalla quale Partiremo tutte le stradine Anche qua appunto Ci ricollegheremo Eccetera Eccetera E Niente ragazzi Voglio pensare Un secondo però Qual è il punto centrale Perché appunto Il punto che sceglieremo adesso Sarà Il punto centrale Di tutto Quindi è importante Non sbagliare Allora Saliamo qua Indicativamente dovrebbe essere Qui da qualche parte Il punto centrale Allora Diciamo che io costruirò In quest'area No? Bene o male si Quindi indicativamente Il punto centrale È questo Sì è circa quello lì È circa quello là Dove adesso Tiro una freccia Vero? Allora vediamo un pochettino Questo qua è tutta la Circonferenza Meglio salire ancora Un pochettino Mi sa Dai Sali ancora un pochettino Fino a là Da qua fino a là Colleggiamo il punto centrale Arriviamo laggiù La faremo un porto Forse Chi lo sa Tendiamo un altro arco E pam La faremo Il centro Vedete queste tecniche Di calcolaggio Molto avanzate Che utilizzavano Gli uomini Della barbabietola Che cosa sono Gli uomini Della barbabietola Sono Gli uomini Sapiens Sapiens Diciamo mondo mio Ok Diciamo che Io lavorerò qua Sì Ok qua c'è la metta or La c'è la metta orcia Dio cosa sto dicendo Allora Facciamo una cosa così Ok E questo Adesso se noi ci Mettiamo Nell'ipotetico Centro Che è questo Dovremmo Sentirci appunto Al centro Altrimenti ci spostiamo E appunto ragazzi Adesso che avrò Trovato il centro Logicamente faccio Un piccolo taglio Per non farvi Cascare in terra Dalla noia E no Penso che il centro Comunque sia più in là No Perché qua posso allargarmi Fin che voglio Il centro è lì Quello lì è al centro Ce l'ho già prima Sì Ok ragazzi Quindi Faccio questo piccolo stacco E comincio a costruire L'acquario Che come sapete Tanto è molto Easy da fare Anzi Prima di cominciare Ehm Diciamo che Voglio fare anche un'ultima cosa Poi appunto Faccio il piccolo stacco Costruisco tutto E ci vediamo tra poco Voglio giusto Voglio fare una cosa Ovvero andare a prendere Delle ossa Ottenere del bombile Prendere degli lapislazzoli Ottenere Metterli con la farina d'ossa Ottenere dell'azzurro Con il quale Colorerò La clay Perché questa qua è una mesa Ragazzi vi ricordo Sì sì È una mesa Quindi qua Ok Faremo L'ipotetico Centro Maledetto Di cui Sto parlando da un'ora Ma non l'abbiamo ancora trovato Ok Centro ipotetico Sembra una professoressa Di matematica Comunque va bene Andiamo di qua Oddio Ho detto di nuovo ragazzi La maledizione Andiamo di qua Aiuto Ok Andiamo a prendere Le ossa Eh sì Sono un po' lontane Queste Queste costruzioni Quindi Cosa farò Come vedete La diciamo La lobby La home Che ho fatto Ha questo centro Con quattro uscite Allora Una sarà l'entrata Una sarà Un Eh Punto dove smisteremo la roba E dove Eh Cuoceremo la roba Poi scendendo Avremo Il portale Al secondo lato Avremo l'entrata Quindi avremo Diciamo Per spiegarvelo meglio Questa qua È la casa No Diciamo che questa qui Sia la casa Da questo lato Avremo l'entrata Da questo lato Costruiremo una zona Dove smisteremo Gli oggetti Automaticamente E non E avremo uno smistamento Di robe Da cuoce E non Che si smisterà Cioè è una cosa assurda Di qua Di qua Avremo un Impianto Di rail Che ci porterà Le varie costruzioni E qua Cosa avremo Non lo so Dovete decidere voi Ditemelo nei commenti Voglio una cosa originale Che però C'è una cosa che In tutte le case Ci deve essere Però è anche Abbastanza ingombrante Potrebbe essere La fame di ferro Credo di no Però Potrebbe essere Un'idea Io nel frattempo Devo anche già Ridare un po' di Vita A questo piccone Perché sta già morendo Ed è veramente Scandalosa La cosa Allora Prego Uno Due Va bene così Ok Ti abbiamo sistemato Un po' Perché oggi Devi lavorare Nel nether Signorino Ok Venga qua E devo pigliare Oddio Buttiamo sta carne marcia Devo pigliare Delle ossa Delle ossicine Ok E muori Ok Ah ma Bombi ce l'ho già pronto Perfect Uno stack di Momil Direi che basta E avanza Forever Allora Pepepe Cosa facciamo Andiamo a pigliarci Il lapislazzuli E andiamo anche A pigliarci A pigliarci Cos'altro Lapislazzuli La clay Ma abbiamo già tutto Ragazzi Quindi dobbiamo solo più craftare Molto bene Very very good Allora Salvevamo di qui E andiamo A pigliarci La nostra roba E Questa Cosa Questa stazione Dove sto vivendo In questo periodo Diciamo che è un campo Un campo Un campo nomadi Praticamente No Un campo nomadi Di una specie Di villaggio Ecco Ah qua Ho del loro Perché colpi con insilità Ci sono già andato a prendere Non so se avevo già detto Tutti i materiali Come appunto Il diamante grezzo E la redstone grezza Che avevamo dimenticato In passato Qua adesso posiamo Un attimino Un paio di cose Tipo il ferro E prendiamo Tipo I lapislazzuli E ne prendiamo Tipo 64 Sono tanti 64 Direi di si E quanti ce ne servono Ce ne servono 8 8 Anzi no 4 addirittura Addirittura 4 Perché Perché se non sbaglio Se io faccio così Mi escono 2 8 Perfetto Quindi Io adesso Con un comodo E pratico Stack Solo di clay Faccio una cosa così Ho stack di clay Ok Azzurro E tac E ottengo uno stack Di questo bellissimo Questa bellissima clay Perfetto Quindi Adesso ragazzi Faccio il tanto amato stacco E beh Il vetro colorato Sapete già come si fa E andrò a preparato quanto Forse non riempirò ancora Qua L'importante è fare Diciamo quella stazione E Cominciare a creare i portali E ci vediamo Tra pochissimo Ok ragazzi Eccoci Sono qua Che mi sto Minando Le Palle Ecco me le sono rotte Le palle Più che Minare Oddio riesco a parlare Please Ok Perché appunto stavo Aspetta Quindi qua Non c'è della lava Niente E Mi sto veramente rompendo Raga Ho dovuto Venire a prendere De l'ossidiana Perché Avevo quasi finito Quando il portale All'improvviso Mi ha detto Non basta l'ossidiana Oh shit E allora Sono dovuto Venire a prenderne Dell'altra Quindi Faccio ancora Continuo Con appunto Lo stacco E Finisco il portale Ok ragazzi Rieccoci Ci prepariamo Per la partenza Oppa Si infatti Il portale è pronto Allora Andiamo a posare Questa ossidiana qui Andiamo a Pigliare Altra clay Perché Ce ne servirà Altra Ce ne servirà Molta 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 Altra Andiamo A prendere Quattro pezzi Di questo E Quattro Pezzi Dove cavolo è Dove è Eccolo qua Quattro pezzi Di questo Andiamo A Fare Il colorante Andiamo A trasformare La clay In questo modo Qui Ok Dove è Il colorante Eccolo qui Tacetec Tacetec Si molto Originale Tacetec Andiamo a posare Questa roba qua Ragazzi Perché adesso Che andiamo Nel Nether Voglio posare Un po' Tutto E non voglio Rischiare Di perdere Qualcosa Quindi Allora Qua facciamo Una lampada Di glowstone Perché ci serve Eccola Facciamo Glowstone Normale Lampada No Facciamola normale Stavolta La lampada La utilizzeremo Poi in altri casi E Niente Direi di andare così No Mi porterò comunque Qualcosa dietro Nel Nether Dai Dai Qualcosina Sì Spero di non Spawnarmi In qualche punto Di quelli Proprio Della serie What Ma In qualche punto Della serie It's ok Come quello Della modalità creativa Perché non so se L'avete notato Ma nella modalità creativa Il portale Ci portava direttamente Da la fortezza Comunque Direi che Devo pillarmi Il piccone Il piccone Eccolo qua Che l'abbiamo appena Fatto riparare Dai migliori Artigiani Ok Non so cosa sto dicendo Ma va bene Andiamo quindi Verso Nether Ragazzi Allora Premetto una cosa Questo episodio Si è Dilungato Già Abbastanza Devo cercare Assolutamente Su internet Un primo piano Di squiddy Perché voglio fare La miniatura Con il golem Di ferro E lo squiddy Vicino E Qua come vedete Ho creato Questa cosa qua Che appunto Sembra una cavolata Ma ha richiesto Più tempo Che previsto Perché appunto Ho fatto questa Piattaforma Ho messo l'acqua Quindi ho stato Così di scendere Qua devo Oddio Mamma mia Ma perché Sti scheletracci Del cavolo Mi fanno sempre Prendere una paura Davvero Vi odio Ecco Mamma mia Impossibile Sono preso Un'altra 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 Paura Vi rendete conto Le paure Sono sempre tante Comunque Qua c'è un pezzettino Di Cera Un pezzettino Di clay Ok Andiamo ad accendere Tutto quanto Pam 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 E Pam Ok E quindi Let's go into the nether Vediamo un po' Quanto è Inculato Il posto Dove ci hanno spawnato Laggerà Ve lo dico già Ragazzi Oddio Ok 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 Caricati Andiamo in un secondo Per caricarsi Ok ragazzi Sembra che si siano caricate Però sottolineo Sembra Perché comunque È la prima volta Che si viene nel nether Si lagga E Appunto Come ho detto prima Non comincia Una vera e propria esplorazione Penso che Comincerò a Bonificare Tra virgolette Un pochettino La zona Infatti qua Come ho Della cobblestone Quindi Per prima cosa Senza Ammazzare Possibilmente Stai lontano Nessuno di questi tizi Comincio A fare un pochettino Di pulizia E Appunto Così Piglio Un po' Di netherrack Che appunto Quocendo Potrò far diventare Mattoni E eccetera E comincio A fare una piccola Stazione Di arrivo La c'è anche un baby pig zombie Che io odio Con tutto me stesso E Ok La C'è della lava qua sotto Lava Very pericolosa Ok Via Ok E cominciamo A fare un minimo di Appunto Una situazione Possibile Appunto Qualcosa di Un pochettino Tranquillo Ok Anche di qua Direi che lo facciamo No Il ghast No Eccolo laggiù Ti ho visto Dai Spara E spara Su Ti sparo Prima io Dai Comincia La caccia Al ghast Perduto Oh Colpito E la palla è sparita Ah io uccidendo il ghast Ho fatto anche sparire la palla Wow The best E Ho già Ho voglia di incartarvi tutti stupidi pigmen Ho già voglia di incartarvi tutti a sangue Mamma mia Comunque Alcuni di voi sono lamentati che Gli episodi durano un po' tanto Altri si sono lamentati che durano un po' poco Quindi Sarò costretto alla fine a decidere io Come Fare gli episodi Cercherò di tenermi Tra una fascia oraria Compresa dai 15 minuti 15 minuti Ai 20 minuti Penso che questo video Abbia superato i 20 minuti Anche se Devo Mi prendere l'abitudine di tenere un timer Cosa che non faccio assolutamente mai Perché sono un capra Sono un capra Proprio detto così E Appunto è una cosa che invece dovevi fare E Devo prendere l'abitudine L'abitudine di fare Comunque Adesso io Cercando di non morire Appunto Reciterò Un Eh Mia colpa Se Appunto morirò Eh Andrò a Girare Tipo qui E col mio bellissimo Sottolino bellissimo Piccone Farò una cosa così Raccoglierò Tutto il quarzo Ah Quarzo Yeah Ehi Ehi Stupido ghast Stai al tuo posto Alla fine non so se avete notato Ma non ho messo Texture pack Barra resource pack Barra No ti prego no Non mi sparare Per favore Ho una famiglia No Per favore no Ok E appunto Pulivano ed intorni Adesso magari Mi giro Trovo una fortezza Spero di no Vorrei trovarla con voi Anche se Sarà difficile perché Dove ho cercato Off camera Adesso il nether è tutto uguale Ragazzi Intanto c'è una fortezza E stop Quindi Io come al solito Vi ringrazio Per la visione Vi ringrazio Per tutti i mi piace Per i commenti Quindi Vi invito a Lasciare un like Perché youtube È stronzo Come sapete Vi invito a La save dell'anime Mi serve anche La cercherò E vi invito a Commentare Perché appunto I commenti sono importantissimi Come sapete E vi invito a Continuare a seguire Questa serie Guardare i prossimi video Vi invito a Non stare Troppo Lì Perché è pericoloso E Niente ragazzi Quindi Io come al solito Vi ringrazio Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che il gasto Vi sia piaciuto E vi do appuntamento Al prossimo video Oddio Ah è solo un mazzo Aspettate È solo un mazzo Quel gasto E il cavolo Ti ho visto Sei Sei là dietro Ah eccoti là Aspettate Oddio La gata Estrema Oddio Oh my god Vediamo un po' No look No 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 Oddio Che cosa sto facendo Ah bravo Vattene Hai capito Che comanda qua Hai capito che io sono Ferre for the win E che ho una patata In mano a mangiare No Devo fare un sistema Di protezione ai gasto Ragazzi Devo O comunque potrei fare Qualche fama Con i gasto Boh Questo lo scopriremo Più avanti Sicuramente Non diciamo In questo episodio Quindi Direi che ci siamo Dilungati abbastanza Qua perché si Continuano spawnare Sti qua Mi stanno sul Cavolo Ti tizi Via No Ma di nuovo no Ok Ci vorrà molto Lo mazzerò Off camera Pazienza Anzi Mi chiuderò in un buco Sì Mi chiuderò in un buco Quindi ragazzi Io come solito Vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti